queste colline richiedono ai ciclisti una buona dose di resistenza e abilità di arrampicata in particolare la salita verso san leo nota per le sue ripide e lunghe tornanti sarà uno dei punti chiave della tappa qui i forti scalatori possono dare il loro primo attacco e tentare di distaccarsi dal gruppo principale un altro punto saliente di questa tappa è l'attraversamento di rimini una delle più famose mete turistiche d'italia rimini non è solo un gioiello della costa adriatica ma offre anche una straordinaria opportunità per numerosi spettatori di incoraggiare i ciclisti da vicino i tifosi del tour de francia rimini saranno sicuramente numerosi lungo il percorso per sostenere i corridori la tappa si conclude infine nella storica città di bologna bologna nota per i suoi portici e la sua deliziosa cucina ha anch'essa una ricca tradizione ciclistica la fase finale della tappa è tecnicamente impegnativa con curve strette e brevi ripide salite nell'area urbana il finale include anche un tratto di pavè che richiederà ancora una volta il massimo dagli atleti saranno particolarmente necessarie abilità di guida avanzate per evitare possibili cadute e garantire una buona posizione per lo sprinte finale insgesamt bietet die zweite etappe der tour de france 224 einen faszinierenden mix aus flachem terrain, hügeligen Herausforderungen und städtischen Technikteilen. Dies erfordert von den Radfahrern eine ausgeglichene Kombination aus Kraft, Ausdauer und strategischem Denken. Team-Taktiken werden besonders wichtig sein, da die Sprinter-Teams ihre Chancen in den flachen Abschnitten suchen und Kletter-Teams ihre Kapitäne für die anspruchsvollen Anstiege positionieren müssen. Für die Zuschauer entlang der Strecke und die Millionen von Fans, die das Rennen im Fernsehen verfolgen, verspricht dieses Teilstück ein aufregendes und unvorhersehbares Spektakel zu werden. Ogni curva, ogni salita e ogni segmento di pavé offrono il potenziale per svolte drammatiche durante la corsa. Non bisogna dimenticare che la seconda tappa funge anche da preludio per le tappe di montagna più impegnative del Tour de France nelle Alpi e nei Pirenei. I primi segni di debolezza tra i favoriti potrebbero già manifestarsi qui, fornendo preziose indicazioni sul loro stato di forma.